Eccolo qua, il terribile cacciatore di Amos. Pronto, ha avvistato la freda, attenzione, attenzione, il terribile Amos. Non lo vuole sapere il terribile Amos. Scappa eh. Vieni, vieni. Ti vuole salvare imbecile. Prendo per la coda? Prendo per la coda? Il terribile Amos. Terribile. Terribilissimo. Cattivissimo eh. Hai visto come l'ha attaccato? Sì, sì, hai visto che morsi gli ha tirato. Madonna, madonna. Terribile. Dov'è andato? Dietro. Sasha, saluta Lucia. Eh, ancora non sa parlare. Saluta Lucia. Saluta con la manina. Ciao Lucia. Ciao. Ciao. Saluta. No, non vuole saluta. Saluta. No, non vuole saluta. Saluta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.